Assemblea annuale dei soci della Proloco Morbegno con una serie di novità. L'associazione non persegue scopo di lucro, il motore che la guida è lo spirito di solidarietà e di intraprendenza dei suoi volontari. Nell'incontro svoltosi nella sala consigliare del Comune di Morbegno è emersa iniziative interessanti per il futuro, non solo del sodalizio ma anche della città. Sempre più forti collaborazioni con l'amministrazione comunale di Morbegno, l'unione mandamentale del commercio e tutte le associazioni del morbenese. Bilancio chiuso con il segno più e cambio di sede in vista. Ringraziamo CM09 che per un anno ci ha ospitati e grazie all'amministrazione la nuova sede con un ufficio turistico che sarà aperto prossimamente all'interno del Chiostro Nuovo di Sant'Antonio. La collaborazione con i commercianti prosegue a gonfie vele. Dopo le riuscite manifestazioni di Natale, il periodo di lockdown qualche scenario positivo l'ha riservato. Dal periodo di lockdown è nata una nuova iniziativa che cercheremo di portare avanti. Non è un'iniziativa, è un nuovo brand, un brand che cerca di unire i commercianti di Morbegno sotto un'unica rete per essere sempre più collegati tra noi, per fare rete, ma per arrivare anche al cliente finale con una linea comune, chiamiamola così. Questo nuovo brand si chiama Shopping Morbegno, lo vedrete sicuramente nelle vetrine dei negozi. Sensibilizzare il cliente all'acquisto nel negozio di vicinato, uno degli obiettivi perseguiti dal binomio commercianti-proloco. Il sodalizio, guidato da Luca Della Sale, desidera diventare un punto di riferimento per le numerose associazioni morbegnesi. Abbiamo pensato anche che si potrebbe sviluppare e creare un'applicazione, un'applicazione che racchiuda tutto questo, ma che sia un canale diretto al turista, ma anche al cliente cittadino, ma che abbia dei settori differenti, un settore turistico, un settore riguardante lo shopping, un settore riguardante l'ospitalità, ma sicuramente anche un settore che riguarderà la cultura. Questo perché a Morbegno ci sono veramente delle grandissime eccellenze. Attraverso l'app, un turista che fa tappa a Morbegno può così avere informazioni su ristoranti, negozi, monumenti e chiese. La famiglia della Proloco Morbegno si allarga sempre di più, con gli ingressi del presidente mandamentale dell'Unione Commercio Mario Rovagnati e di Mauro Monti, volto noto nel panorama morbenese. I giochi delle contrade, la manifestazione di maggior richiamo organizzata, la continuità è un'altra peculiarità dell'associazione. I nostri eventi durano nel tempo e difficilmente organizziamo eventi a spot che l'anno dopo non vengono riproposti.